Buongiorno, ben trovati. Oggi presentiamo nell'ambito della manifestazione Ravenna 2017 una innovazione, almeno dal punto di vista dell'esperimento fra dei rapporti e delle interazioni fra conoscenze tecnico-scientifiche e esperienza giuridica. Presenteremo il progetto FAR interdipartimentale promosso all'interno dell'Università di Modena con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna. Il progetto è un progetto innovativo, è una nuova frontiera della interazione appunto tra competenze tecniche specialistiche diverse, focalizzato soprattutto sia sull'analisi diciamo europea della normativa ambientale ma anche sugli effetti dell'innovazione scientifica nello sviluppo tecnologico e come questo incide sulla valutazione dei rischi anche per le imprese nell'investimento in processi innovativi. Preso atto anche che il fatto che la materia ambientale sia una materia molto attenzionata da legislatore che comporta un dialogo con diversi stakeholders e con la partecipazione di cittadini, pubbliche amministrazioni, a volte l'investimento industriale in nuove tecniche per favorire lo sviluppo sostenibile diventa complicato. L'intervento o meglio l'incontro di oggi è arricchito anche dall'intervento della Regione Emilia-Romagna con l'ingegnere Luigi Palumbo che ci presenterà proprio nell'ambito dei processi di valorizzazione dei materiali di scarto l'attività della Regione in materia di qualificazione dei sottoprodotti.